Guardate questo grafico, lo proietto da un po' di tempo anche ai miei allievi, vi faccio notare la fonte, dove vedete BP, si tratta proprio di quella BP, quella che sta facendo danni nel Golfo del Messico, e parla di consumo mondiale di energia. È una riflessione che sostanzialmente, penso, molti dei presenti abbiano iniziato a fare non ieri, ieri e l'altro, ma vent'anni fa. Io mi sono laureato nel 1985 e ho fatto una tesi sui collettori solari a tubi evacuati, una tesi poi di dottorato. I collettori solari a tubi evacuati sono stati, diciamo così, un'innovazione tecnologica relativamente alla produzione di acqua calda sanitaria e venivano purtroppo spacciati come la soluzione per una panacea sostanzialmente anche per quanto riguarda il risparmio energetico, cioè si diceva mettete i collettori solari sulle vostre case e risparmiate anche nel riscaldamento, senza fare una indagine complessiva su quella che era, come diceva prima l'ingegnere Dallor, anche una qualità dell'abitare, una qualità del costruito. Perché molto spesso noi dimentichiamo con cosa abbiamo a che fare, cioè con un sistema che è oggettivamente fortemente energivolo. tutto quello che noi, quando parliamo di qualità, vedere la televisione, avere il computer, avere il forno a microonde, dopo il forno a microonde avere l'impianto di condizionamento, eccetera, eccetera, significa avere degli elementi all'interno delle nostre case che sono via via sempre più energivoli. Vi facciamo risparmiare, ma di solito una, diciamo così, una riflessione relativamente a quello che è il comfort dell'abitare, in tutti i sensi, non solo quello termo-igrometrico, come diciamo noi, non intendo dire come il mio settore scientifico disciplinare, si occupa di fisica tecnica, quindi di questi aspetti qua, ma il comfort dell'abitare è relativo ad alcuni aspetti molto importanti, tra i quali appare anche inevitabilmente quello di avere un qualcosa in più, che però alla fine si traduce sempre in un qualcosa di maggiormente energivolo. la conseguenza è questa, una curva, un trend di aumento nella richiesta continua di energia per far funzionare il nostro sistema. Il nostro sistema è inteso il nostro mondo, le nostre, diciamo, attività. E guardate bene, se riuscite a distinguere i colori, come spero, da questo trend, vedete che ci si riferisce a energia derivata dal carbone, derivata dall'idroelettrico, derivata dal nucleare, derivata dal gas naturale, derivata dal petrolio. Se guardate bene l'ampiezza di queste curve, partire dal 1993 circa, per arrivare fino all'anno scorso più o meno, con dati statistici, che ci dicono tutte le fettine sono andate a crescere. E se noi andiamo più nel dettaglio, e andiamo a vedere che cosa succede in Italia, traducendo tutto in tonnellate di petrolio equivalente, cioè in quella misura con cui, diciamo, vengono fornite le statistiche internazionali a livello di consumi energetici, ci troviamo ad avere una distribuzione di consumi, che, come potete vedere, viene abbastanza a essere, diciamo così, indicativa, perché guardando i tre settori, trasporti, industria, residenziale e terziario, vedete che più o meno, all'incirca, un terzo, un terzo, un terzo, sono abbastanza equamente ripartiti. La cosa interessante è però vedere come, all'interno di ciascuna voce, si vada appunto a ricercare energia all'interno di fonti non rinnovabili, come il petrolio, il gas e anche il carbone, e ovviamente anche con una certa consistenza anche relativamente all'elettricità, la cui provenienza però non è ovviamente qui riportata.